A circa dieci giorni di distanza dall'inizio dell'iter che ha portato alla condanna in primo grado e alla sospensione del sindaco Luigi De Magistris, è giunto il tempo di porsi qualche domanda. Episodi e avvenimenti accaduti nel momento in cui il bilancio chiude in attivo dopo aver ereditato debiti stimati in circa 2 miliardi di euro dalla precedente amministrazione e alla vigilia dell'avvento di nuovi consistentissimi fondi del Piano Europeo 2014-2020. La sentenza pronunciata per il caso Why Not è una sospensione che dal Ministero degli Interni giunge alla Prefettura partenopea in tempi record se si mettono a confronto altri episodi in cui i sindaci sono incappati nella falce della legge Severino. Sospetti che alimentano la teoria del complotto sostenuta da alcuni supporter del sindaco rintuzzati da chi invece intravede in questi giorni il normale svolgersi della giustizia in tempi efficienti rispetto alla norma. Ascoltiamo il consigliere Salvatore Pace e il vicepresidente del Consiglio Comunale Fulvio Frezza. Napoli che era una polpetta avvelenata è diventato un buffet ricco. Il problema è a chi se lo piglia. Tenga presente che da oggi al 2020 per i piani europei arriveranno a Napoli 16 miliardi di lire qualcosa come 30 miliardi. È impensabile la massa di soldi che arriverà a Napoli. I primi sono già arrivati. Già abbiamo impregnato il primo miliardo per la metropolitana insieme alla regione. Ma voi volete che chi ha mandato alla malora una città si faccia sfuggire adesso questo buffet? Voi volete che la camorra davvero possa restare a guardare questi appalti senza potervi accedere? Non è possibile condannare un sindaco, una persona onesta, leare, corretta che cerca di fare gli interessi della città soltanto per delle quisquile o dei piccoli incidenti di percorso legati a situazioni amministrative. Quando una persona è onesta e cerca di fare gli interessi va al di sopra delle parti. Dal versante dell'opposizione i vertici cittadini di Fratelli d'Italia parlano di una città sospesa come il suo sindaco e in queste ore si mobilitano in una marcia per la legalità. Dalla loro parte abbiamo ascoltato l'onorevole Marcello Taglialatela. Finiremo la manifestazione sotto San Giacomo per evidenziare che per quello che ci riguarda De Magistris non è solo un sindaco sospeso ma è un sindaco scaduto, quindi un sindaco che non merita di continuare a guidare l'amministrazione, né lui né la sua giunta né il suo vice sindaco meglio tornare alle elezioni, ci sono i turni amministrativi della prossima primavera per ridare alla città una guida amministrativa sicura.